Ciao ragazzi, bentornati nel canale, secondo appuntamento con Unfip ed in particolare con la serie Omnia. Ma prima, sigla! Il set a mia disposizione oggi è un po' diverso rispetto all'altro, abbiamo 14, 16, 18, 22, con l'altro set abbiamo in comune il 22 e il 18. Per i pesi sempre in descrizione, andiamo a sentire come suonano e poi ne parliamo. Grazie per la visione! 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 Iscrizione, like, commentate, condivisione, Instagram, Telegram, ditemi se li avete già provati, se li conoscete, in descrizione anche tutto il mondo Unfip e noi ci vediamo, spero per un prossimo video sempre di un prossimo video di casa Ufi! Ciao! Grazie per la visione!